amici di radio roma sport ciao e buonasera d'alberto fiano il punto sulla roma eccoci qua dopo roma palermo del 23 ottobre corrente anno una roma che ha fatto pienamente il suo dovere infatti liquida la pratica rosa nero con un secco e perentorio 4 a 1 i marcatori nel primo tempo sarà nella ripresa paredes sempre più in crescendo le sue prestazioni ed in gioco ormai proprio bombe ritrovato e rinato che solidifica la sua leadership in testa la classifica di capo cannonieri del campionato di serie a e il charawi che continua a segnare dopo la doppietta con l'australienna timbra anche in campionato e continua a non fare piangere perotti perotti e continua a scalare posizioni per riprendersi il posto da titolare il palermo era quello che ci si aspettava totalmente arroccato in fase difensiva con ben 89 elementi dietro la linea la linea della palla appunto la roma ha faticato un pochino nel primo tempo a come dire scardinare il bunker messo su da deserti ma una volta trovato il vantaggio è andata in scioltezza e da segnalare purtroppo che neanche questa volta la roma riesce a concludere la partita con la rete inviolata e purtroppo anche da segnalare il difficile momento di guai jesus di nuovo in involuzione tecnico tattica dopo la brella prova convincente al san paolo di napoli la vittoria trasferta contro appunto i partenopei di sarri diciamo di parlare sempre più in crescendo rientra anche strotman e buon secondo tempo di florenzi sulla fascia appunto e anche emerson emerson palmieri ci è sembrato un po più ritrovato forse anche perché la caratura dell'avversario era modesta e poi che prima del gol comunque la roma ha denotato delle scorie di più che altro che fisiche ma mentali per la rimonta imponderabile e pazzesca subita in europa league dagli austriaci che ricordiamo a 150 secondi hanno fatto due gol alla roma così così che portando poi il casa un pareggio ormai sperato per 3 a 3 e ora la testa va al sassuolo però c'è da dire che finalmente la roma ha saputo sfruttare un'occasione si è portata a due punti dalla juventus e questo che deve fare visto che la juve difficilmente sbaglia o che come precedentemente anche mister spalletti aveva detto bisogna farsi trovare pronti se lassù inciampano in qualche diciamo incidenti di percorso quindi ottimo questa questa vittoria una prova di maturità della roma e ora siamo a meno due ripetiamo la testa ora sassuolo mercoledì al mapei stadium una trasferta difficile contro una squadra che gioca un buon calcio e che ha le armi per mettere in difficoltà la roma anche se non sta attraversando anche lei un momento proprio proprio brillante ed ancora defezioni anche importanti nell'organico comunque è una partita da da prendere con le molle con la giusta e concentrazione feroce col giusto piglio perché la roma non può mancare questa vittoria anche a sassuolo per poi bisarla speriamo domenica tempoli ma ora la testa deve deve essere solamente a sassuolo mercoledì 26 ottobre appunto ora 20 e 45 mapei stadium sassuolo roma e che dire non c'è nient'altro e poco da dire su questa partita stiliamo le pagelle e come dire scesni 6 e mezzo emerson palmieri 6 e mezzo ma non l'asse fazio 6 e mezzo e 6 e mezzo guaijesus 5 a centrocampo 6 e mezzo parate 6 e mezzo ngolan 6 strotman rientra un 6 di stima visto che ormai era già tutto deciso comunque bentornato kevin è importante a centrocampo la tua presenza 6 di stima anche al capitano francesco totti accolto dalla solita giusta ovazione quando a circa 18 minuti dalla fine ha fatto il suo ingresso in campo 6 e mezzo sarà 6 e mezzo e sciarawi 7 geco 6 e mezzo spalletti per come ha gestito i cambi e 6 e mezzo anche alessandro florenzi che ha giocato 45 minuti nella ripresa sulla sua fascia di competenza a buoni livelli e chiudo mandando i miei saluti a roma dal credo di andrea materia fulvio micozzi dove io sono opinionista e speaker e dove appunto ogni lunedì quindi anche domani dalle 12 alle 14 condurrò la trasmissione spqr quindi seguiteci sempre più numerosi mando un saluto alla mia carissima amica nonché anche dottoressa in logopedia edizione bravissima attrice e teatrale cantante analisa peruzzi per chi fosse interessato alle sue materie può contattare nella contattarla nella sua pagina facebook e mando un saluto al mio caro amico roberto de angelis di rda radio 1 radio bomber sap radio che insieme a stefanotini ogni venerdì pomeriggio mi danno l'onore e il piacere di partecipare alla loro trasmissione sempre più in espansione per tutta italia ossia questa è la roma mando un saluto e un abbraccio al mio carissimo amico fraterno guglielmo timpano con il quale anche questa sera ho condiviso in tribuna stampa all'olimpico per audio sport news e per tele roma 56 dove lui conduttore della trasmissione che venò da ogni giovedì in diretta tv dalle 21 alle 22 45 appunto sul canale 15 del digitale terrestre gioco pericoloso mando un abbraccio grande a lui e niente anche alla mia carissima amica giornalista anche lei professionista bravissima ex gazetta dello sport anche natalia di porto e un saluto a tutti voi tifosi della roma ricordando anche che nella mia agenzia di via candia 141 b zona prati a roma b come bari continuano numerose le iniziative per voi e le vado a riepilogare ogni martedì mercoledì e giovedì di coppie europee e ogni fine settimana troverete gli inserti per le guida scommesse che anziché acquistare dal giornalaio al costo di un euro e 52 euro noi stesso facciamo omaggio a voi con tutti i pronostici vincenti le statistiche le classifiche aggiornate appunto di tutti i campionati italiani europei e internazionali e mondiali appunto ve lo regaliamo noi stesso un'iniziativa che fa per far contenti i clienti per farvi felicemente passare la cassa ricordiamo per chi volesse aprire un conto online di gioco online ad apertura conto fino a carichi di 25 euro regaliamo il 100 per cento di bonus ossia se uno per esempio carica 20 euro avrà accreditato ad apertura conto 40 euro ma pagherà sempre 20 euro ricordiamo anche che per ogni giocata che uno fa da 10 euro minimo avrà in regalo una giocata bonus gratuito di 3 euro offerta dalla sala e per chiunque venisse in sala a nome della trasmissione spqr di roma talk radio a nome della trasmissione gioco pericoloso di roma 56 a nome della trasmissione questa è la roma appunto di roberto di angelis stefanotini pronunciando ovviamente presentandosi io vengo a nome di questa trasmissione ma pronunciando la parola magica magica che ha che è daie roma daie avrà in regalo una giocata da 5 euro gratuita sempre offerta dalla sala quindi come vedete iniziative e promozioni sempre più allettanti per voi clienti adesso davvero tutto vi auguro una buona settimana mando una buonanotte seguiteci e chiudo con il mio sempre più che mai daie roma daie per radio roma sport alberto fiano dalla buonanotte e chiude il collegamento ciao e grazie